amici super basket ben ritrovati oggi abuserò di cinismo e per un romantico della palacanestro come sono io è una sorta di arachiri ma inevitabilmente coerente con quello che si è detto nelle passate volte molti mi hanno scritto hanno così ha alimentato sempre il dibattito su appunto sulla riduzione degli stranieri del campionato di serie a rimarcando una volta di più l'inutile l'inutile a quel punto presenza nelle coppe europee delle squadre italiane in quanto in quanto sottodotate a livello tecnico qualitativo per eccellere a livello europeo non scherziamo io la vedo in questi termini ci hanno chiusi tutti in un incantesimo da ormai da qualche decade diciamo così ci hanno venuto un castello di sabbia come il colosseo un palo della luce come la torre di pisa ci hanno fatto credere che il prodotto esotico nella palacanestro valesse dieci volte tanto quello italiano ahimè di questi tempi non è così però facendo proprio un percorso ritroso così random nella bienio 2000 2002 mi vado a vedere un po i roster di alcune squadre la kinder bologna ginobili abbios conocchini anderson rigado griffith smodis yaric la benetton treviso del 2001 con nicola edney pittis marco nato nachbar charlie belga barbacosa la fortitudo con fucca andrea meneghin savic milic basile galanda emilio kovacic piluti goldwire ecco queste questi sono roster che possono fare le coppe europee ammetto ho un difetto nel senso io considero la coppa europea come la perfetta sintesi delle eccellenze del vecchio continente sono troppe coppette secondo il mio punto di vista ripeto con il massimo rispetto che rientrano in quell'incantesimo di cui sopra prima ci svegliamo da questo incantesimo e prima capiremo chi siamo e soprattutto cosa siamo oggi o non siamo non è disdicevole ripartire dal basso è triste far finta di non badere grazie da raffaele ballini